Musica Senatore Luciano D'Alfonso, 65 anni di attività e un grande traguardo. Che cosa si sente di dire agli amici della Maico di Pescara? Che hanno fatto bene a scommettere su questa regola. È meglio conoscere qualcosa che qualcuno. Loro si sono occupati di attività conoscitiva, di organizzazione industriale, di scelta delle persone. E hanno organizzato un prodotto, un metodo che li ha resi dei campioni a livello nazionale. Voglio anche mettere in evidenza che senza l'udito non solo non c'è il progetto di vita individuale, ma non c'è neanche la democrazia. La democrazia è costruita sulla capacità di ascoltare, di ascoltarsi. Io vengo da un paese nel quale si diceva che quando scompariva l'udito uno si poteva cominciare a lasciare perdere, a lasciare andare. Quindi si è occupato di un grande diritto, di una grande esigenza, che è quella dell'ascolto reciproco, della composizione dei giudizi. Io mi complimento anche per il come loro interpretano la ricchezza, condividono la ricchezza e hanno un'idea sociale della ricchezza. Carlo Masci, sindaco di Pescara, è sempre un onore annoverare tra i propri concittadini un imprenditore che vanta 65 anni di attività con la propria realtà, il centro acustico Maico. Sì, oggi è un bel anniversario, è un bel compleanno e il compleanno vuol dire guardare indietro ma soprattutto guardare avanti per il futuro. E la Maico è in grado di farlo, oltretutto è presente sul territorio, non è un'impresa che pensa solo al guadagno, ma è un'impresa che pensa a restituire al territorio quello che dal territorio ha avuto e soprattutto promuove questo territorio perché l'azienda Maico che è nata a Pescara ed è cresciuta nella nostra città, nella nostra regione, oramai si espansa in tutta Italia anche con le manifestazioni collaterali, con la fondazione che si occupa di Nonno Ascoltami, che è un messaggio chiarissimo dal nonno al nipote per una continuità chiara rispetto alle imprese sociali. Questa è Maico e per noi è motivo di grande soddisfazione averla qui, ma soprattutto sapere che Maico è innamorata di questo territorio, Ama Pescara e sicuramente riesce a dare tanto a questa realtà che grazie alla Maico continua a crescere. Un esempio da imitare? Sì, io mi auguro che ce ne siano tante di imprese così perché con le imprese che guardano al ritorno sociale del proprio territorio il territorio cresce e questo è il punto di partenza di qualsiasi comunità. Guerrino Testa, consigliere regionale, 65 anni di attività non sono affatto pochi? Sono 65 anni della Maico costellati di grandi vittorie, grandi imprese professionali, imprenditoriali, 65 anni ricchi di umanità, ricchi di sociale perché questa azienda è una forte impronta familiare ma nello stesso tempo manageriale anche perché oramai è leader a livello nazionale ha dato al territorio molto, molto, molto. Pensiamo alle tante attività culturali, religiose, sociali che questa azienda ha aiutato a far crescere, a far diventare importanti per la nostra città e anche oggi il riconoscimento che ha dato il Comune di Pescara donando 65 alberi per la pineta d'Annunziana e dando anche, omaggiando degli apparecchi acustici penso che la dica lunga sulla grande professualità, umanità e grande proiezione verso il futuro che questa azienda ha. E poi la rassegna Nonno Ascoltavi, lei la conosce molto bene, una rassegna ormai conosciuta in tutta Italia partita proprio da Pescara ai tempi in cui lei ricopriva la carica di presidente della provincia. Esattamente, erano gli anni 2010-2011 e partito tutto dalla sala del consiglio provinciale, io ero presidente della provincia quindi anche io ho un pezzettino di orgoglio perché questa manifestazione ormai che ha avuto un eco nazionale sbarcata al Senato pochi mesi fa e in tutte le piazze d'Italia, evidentemente la provincia gli ha portato fortuna. Quindi oggi che cosa si sente di augurare alla famiglia Menzietti? Di continuare così perché una splendida famiglia sia intesa come famiglia in senso stretto ma anche come famiglia societaria. Iuri Chechi, ospite d'onore di questa giornata particolare dedicata a 65 anni dell'Istituto Acustico Maico intanto ecco il suo ritorno a Pescara e il suo ritorno in Abruzzo. Sempre con piacere, il ritorno è sempre piacevole, ho tanti amici a Pescara, ritorno anche per questioni di amicizia e ludiche è un posto molto molto bello, una città molto bella, l'Abruzzo come le Marche sono due regioni che hanno il cuore. Lei è stato ed è il simbolo della ginnastica, ha rappresentato questo sport per l'Italia a livello mondiale. Ecco, che momento vive secondo lei oggi come oggi? La ginnastica vive un buon momento, devo dire che nelle varie discipline, quindi l'artistica maschile, femminile, ritmica che anche qui in Abruzzo abbiamo, posso dire, una grande tradizione in questa disciplina, sta vivendo un buon momento. Certo, manca magari qualche eccellenza in più per cercare di far parlare di più di questo sport, però in ogni competizione internazionale i risultati della ginnastica sono sempre molto alti. Ma com'è cambiato da un punto di vista strettamente tecnico? Eh sai, come tutti gli sport ci sono delle grandi evoluzioni, però in alcuni settori più di tanto non è che puoi evolverti. Gli anelli, la mia specialità, per fare un esempio, il mio esercizio ancora teoricamente potrebbe essere abbastanza competitivo con qualche piccola modifica, perché alle anelli non è che puoi fare la croce con un braccio solo, ora faccio un esempio stupido. Però certo, delle evoluzioni ci sono, gli attrezzi un po' si sono evoluti, le tecniche si sono evolute, gli attrezzi sono sempre più performanti, quindi è cambiato in alcune attrezze di più, in altri meno, ma comunque sì, ci sono delle evoluzioni. La ginnastica le ha dato una grande visibilità, ma sinceramente dopo i sacrifici fatti ritiene di aver più dato o più ricevuto da questo sport? Domanda molto facile, ho sicuramente più ricevuto di quello che ho dato, ho dato quello che potevo, ho fatto la mia attività principalmente per le mie soddisfazioni personali, credo di aver dato e lo la confermo anche qui, ancora perché mi chiedono di essere presente in alcuni eventi, quindi c'è ancora ricordo di quello che ho fatto, mi fa un enorme piacere, però certamente è più quello che ho ricevuto rispetto a quello che ho dato. Che cosa si sente di augurare alla MAICO, agli amici della MAICO? Di rivederci qui tra i prossimi 65 anni e festeggiare i 130 anni, insomma, per la scherza, speriamo. 65 anni di attività per l'Istituto Acustico MAICO, che cosa significa? Lo chiediamo all'immagine della medicina a livello mediatico nel nostro paese. Luciano Onder. Dare informazioni, sensibilizzare al problema della perdita dell'udito è una grande impresa. Sopra i 65 anni un italiano su tre ha problemi di udito, 7-8 milioni di persone. Sono persone condannate in qualche modo a una vita sociale ristretta, a una perdita di affetti. Devono uno stile di vita ridotto rispetto a chi ascolta e ha un udito perfetto. Dare informazioni, sensibilizzare su questo problema è un grandissimo merito. L'iniziativa, ad esempio, di Nonno Ascoltami, che cerca di portare agli anziani che ascoltano poco, che hanno un deficit di uditivo, le informazioni giuste, cerca di portare la sanità in piazza perché queste persone possano porre rimedio, cominciare a porsi il problema, è un grande merito, una grande impresa. Perdere l'udito è uno stigma. La persona che ascolta poco, male, che non riesce a capire tutto, è costretto ad andare in pensione anticipata, in parole povere, a non poter giocare con i propri nipotini, a non poter discutere con la moglie. Avere un udito ridotto significa una vita psicologica, sociale, di comportamento ridotta. Serafino Menzietti, al termine di questa bella festa, 65 anni di onorata carriera, come si sente? Molto bene, è una giornata particolare per me. Sono passati 57 anni da Bari e per me è una festa incredibile. Quali sono i ricordi che le vengono in mente subito, in questo momento? I ricordi sono tanti, ricordi di lavoro, in tutti i momenti si parla di come vanno le cose, quindi le cose sono buonissime, sono bellissime. Ma se qualcuno le chiedesse qual è stato il segreto del suo successo, lei che cosa risponderebbe? La buona volontà. Guardi, sono sempre stato a disposizione delle persone che avevano bisogno. Io sono stato a disposizione di tutte le persone per la sordità. Grazie. Continua a lavorare, ma dove vuole arrivare Serafino Menzietti? Guardi, io sto in ufficio ad aiutare tutti i miei collaboratori. Poi c'è mio figlio che è il capo, quindi sto dietro al figlio. Tutto quello che serve sto a disposizione. In bocca al lupo! Grazie.